Come le sembra al suo parente? Increibile l'esposizione, incredibile. C'è tanta tanta roba, molto. Sì, è possibile che è più grande il mondo. Come raccolta di Jesse si è sicuro, per Trubesco è sicuro. Increibile. Poi nell'ultima sala c'è il suo studio di Parigi che ha donato completo. E' molto bello. Era bravo il suo scopo attento addietro. Sì, sì. 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 Sì.